Si chiude una volta per tutte la vicenda giudiziaria relativa all'aggiudicazione del servizio 118 di Benevento. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato contro le eccezioni relativi all'appalto. Si tratta dell'ultima tappa giudiziaria di un braccio di ferro passato prima davanti al TAR Campania e poi al giudice del lavoro. Una vicenda che si trascina da tempo e che ha travalicato anche i confini locali. Ci attaccano perché portiamo un modello di correttezza nella gestione della sanità? Il commento di Jonathan Fatichenti, direttore tecnico incaricato per il servizio 118 delle Misericordie, che si scaglia duramente contro quelle che definisce forme di illegalità strisciante, di inadempienze reiterate, di mala gestione sempre più evidente. Sulla questione è intervenuto anche Roberto Trucchi, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Noi siamo quelli del fare, dell'operare anche senza apparire, ma oggi riteniamo sia giunto il momento di ribadire con forza la correttezza del nostro operato e denunciare certe situazioni di palese e diffusa illegalità di fronte alle pubbliche amministrazioni e soprattutto all'opinione pubblica.